e salve a tutti amici ben ritrovati nel mio canale oggi andiamo a vedere insieme un titolo free to play già uscito per playstation 3 l'hanno messo anche per playstation 4 l'hanno chiamato last round dead or alive 5 premetto nel dire che io non sono un amante di dead or alive però ci ho giocato così alcune volte a casa di direct fear ornest che lui ne va matto io preferisco il genere più teckeniano diciamo più alla tecken mentre dead or alive insomma è un po' più tecnico un po' più difficile diciamo però ogni tanto una partitina me la sparo e oggi andremo a vedere appunto dead or alive 5 last round per ps4 andiamo per trasferire i dati salvati alla versione vuoi connettere a tsb per scaricare i dati ma anche no inizia dalla partita non potete solo procedere no vabbè scarichiamo questi dati ah ma deve essere scaricati da un'occhiata ai contenuti scaricabili non possiamo trovare i dati vabbè sti cazzo dilettante sei solo lo stile di gioco si si dilettante perché sicuramente faremo delle pessime figure hai ottenuto un nuovo titolo piacere di conoscerti hai ottenuto un nuovo titolo last round e basta ok combatti scontro partita in singolo si va bene ah ma giochiamo online qua allora buonanotte ah è vero che qua c'erano solo alcuni personaggi ma io non li conosco a fondo però io eh vabbè c'è i tommy che è sbloccabile eh questo qua con gli occhiali è in o in ma io mi trovo bene con ai abuso personaggio anche di ninja a riden un passo laterale vabbè va bene così ah no non è online partita in singolo ok facciamo casuale per lei va bene vediamo un po insieme questo titolo free to play che vabbè è uguale al è uguale a quello quello per ps3 però siccome non l'ho mai portato non l'ho mai portato un gioco picchiaduro sul mio canale andiamo di last round di dadora live insomma poi quando uscirà attack and set ovviamente farò qualche video anche su attack and set eh io sono scarso qua ragazzi non mi giudicate in dadora live perchè non sono fortissimo va che adesso mi ha messo il dilettante quindi la cosa abbastanza più semplice diciamo però non che non sia bello eh per l'amor di dio anzi è un valido titolo secondo me però insomma eh per gli amati di Tekken insomma c'è chi ama Tekken c'è chi ama di Adora Live giustamente però insomma io vado per Tekken anche perchè ci sono cresciuto con Adora Live un po' di meno eh va bene primo combattimento vabbè no io direi aspettate un attimo di mettere un po' più le aspettate usciamo un attimo si no vorrei aumentare un po' il livello perchè così è veramente scandaloso eh combatti no come si fa adesso a cambiare non si può immagini vabbè niente no impostazioni di combattimento livello comp cioè su livello di difficoltà contro l'intelligenza artificiale ma mettiamo una metà va saluto normale limite di tempo va bene dai partita in coppia ma non si può fare online qua? sfida a squadre non si può ci siamo all'idea ah in fase di installazione ok vabbè facciamoci così un po' di partite così in singola poi vabbè vedremo un po' allora vedremo anche la modalità online in un altro video andiamo di casuiva cambiamo un po' i personaggi che facciamo tutti i personaggi che sono sbloccati poi qua facciamo casuale non si può fare vabbè mettiamo ayat si va bene tanto per fare un video così interessante anche se vedo la live anche se non c'ho molto da dire perché come vi ho detto non sono molto esperto vado più su Tekken vediamo un po' se la difficoltà è un po' aumentata mamma mia che so farmi niente sti vlog bello questo tac tac dai 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 oh però si vede qualcosa di sotto ed adore live è sempre stato abbastanza non spinto comunque ci giocano su questa cosa fanno anche bene perché non fanno anche perché insomma tutti i videogiochi un po' ci spingono su questa cosa delle ragazze un po' svestite insomma non solo ed adore live ci tengo a precisarlo vabbè anche così sono scarsi non ci posso fare niente abbiamo vinto di nuovo va bene 1 a 0 modifica il personaggio allora abbiamo provato a yabusa abbiamo provato kasumi andiamo a provare 2 a 0 modifica il personaggio in free to play c'è metteteli tutti basta c'è notte devi comprare il gioco va bene vediamo quanto sei forte dai sotto da piatti gatti attenzione 2 a 0 modifica il tutto 3 a 0 modifica il suo suono 3 a 0 modifica il cazzo 3 0 mamma mia grandissimo calma io voglio dai e oppo non ti lascio più da vangolini non voglio vedere no è morto fine dei giochi bravo bravo prima protezione aria hai ottenuto un nuovo titolo principiante aiano va bene modifica personaggio andiamo a provare gli ultimi due poi ci facciamo una partita in coppia gli ultimi due no ci manca aiate volevamo già fatto aiate no credo di no va bene contro mettiamo stavolta aia abuso perfetto andiamo casuale nel deserto bello le ambientazioni sono veramente belle veramente molto molto faiche molto fatte bene così come comparto tecnico niente da dire ambientazioni ben fatte antipersonaggi non male non male veramente ma togli abuso tutto sto suonando perfetto hopela 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 se ieri accommodate Gli altri due mettiamo quelli che ci sono sbloccati, Kasumi e l'altra tipetta che è Hayane, va bene, Kasuan, va bene, una tempesta incombe, grandissimo, Hayabusa. Qua non mi chiede tre combo e combo insieme come si fanno perchè non lo so. Valla questo. La Hayabusa, Hayabusa, Hayabusa. La Hayabusa, Hayabusa. Coppelò. Cazzo morto. Cazzo morto, Hayabusa, Hayabusa, Hayabusa. Coppelò. Mamma mia che mossa che hai fatto, bellissimo. attenzione qua, si prova, si prova, attenzione, aiate, abbiamo aglio abuso, ci è rimasto aglio abuso, dai che questo lo vinciamo noi, aglio abuso, dai così, prendi la spada e affetta, non si può? vabbè no, non posso perdere, ok, l'ultimo round, decisivo round, vediamo un po', come ci si mette, adesso mette male, mamma mia, non abbiamo fatto niente, bellissimo, è veramente fantastico, bellissimo, pa pa pa, dai così, vai aiate, vai aiate, attenzione, benissimo, signorina, vuole schiaffo, dai si picchia una donna però, dai eh, attenzione, poi si soffre, si soffre, ho perso, ho perso, ho perso, ho pazzesco, va bene ragazzi, io ho fatto questo breve video, così per fare un gioco diverso, se vi è piaciuto, scaricatevelo, compratevelo sullo store, io vi saluto e vi rimando i prossimi video, ciao! se volete seguire la persona, iscrivetevi al canale, ciao, sono Zappi!